Nella terza serie della squadra abbiamo visto Luciano Russo infiltrato, Luciano che è diventato Lino Terlizzi e che è riuscito a conquistare la fiducia di Mimmo Iovine. E infatti abbiamo visto molte volte Mimmo Iovine invitare Lino a casa sua ed è così che Lino ha conosciuto la famiglia di Mimmo Iovine, ha conosciuto la moglie e i figli. Poi sappiamo bene insomma come sono andate le cose con la morte costruita di Lino Terlizzi ma poi più avanti la figlia di Mimmo Iovine ha visto ad un posto di blocco un poliziotto, ha visto Luciano chiamandolo Lino e quindi lo aveva riconosciuto. Ed è così che Mimmo Iovine scopre che in realtà Quellino Terlizzi era un poliziotto, era Luciano, Luciano Russo. Mimmo Iovine che poi alla fine riesce a fuggire dal carcere con l'intento di far fuori Luciano Russo ma non ci riesce, cioè fa fuori purtroppo Angelica Rocco e sta per uccidere anche Luciano Russo ma fortunatamente c'è stato l'intervento di Edoardo Valle che è riuscito a sparare per primo uccidendo proprio Mimmo Iovine e salvando la vita a Luciano. Questo diciamo è quello che è successo in poche parole. Fatto sta che nella quarta serie esattamente nel terzo episodio c'è Luciano che si trova di turno alle volanti insieme a De Pasquale e a un certo punto riconosce per strada proprio la moglie di Mimmo Iovine. L'abbiamo vista completamente diversa rispetto a come l'avevamo trovata nella terza serie. Lei che è incinta aspetta un nuovo figlio proprio da suo marito che purtroppo per lei non c'è più e la moglie di Mimmo Iovine si era diretta all'agenza dei dipendi per vendere degli oggetti, dei vestiti che le aveva in cambio di soldi. Quindi possiamo dire, dedurre che comunque dal punto di vista economico non è che se la passasse molto bene. E Luciano a fine turno ha deciso di tornare lì, di tornare in zona. Si è recato proprio all'agenza dei dipendi ed è qui che ha incontrato proprio lei, la moglie di Mimmo Iovine. C'è stato un faccia e faccia tra di loro con ovviamente la moglie di Iovine che ha guardato malissimo Luciano e lei continua a chiamarlo Lino. Per lei è ancora Lino, Terrizzi, non esiste Luciano per lei, lui è Lino. Dice a Lino di andarsene via. Luciano che dice quanto vuoi per questa pelliccia dalla metra compro io, ma lei non vuole assolutamente prendere i soldi da Lino. E Lino che però dice guarda non fa niente questi soldi dalle tue figlie dopo che le ha chiesto come stavano, ma lei non prende affatto bene la cosa, anzi prende i soldi che le ha dato Lino e praticamente li getta per terra, prima addosso a Lino e poi facendogli cadere a terra, dicendogli che cosa me ne faccio del tuo stipendio da traditore, quanto vale, che costo dai alla vita di mio marito, 50 euro, 100 euro, 200 euro, piuttosto che prendere i soldi da te e andrei a fare la prostituta. E questa è stata una frase molto forte che la moglie di Mimo Iovine ha detto a Lino, che lei continua a chiamare Lino e non Luciano, e fatto sta che dopo lei prende e va via, con Luciano che raccoglie i soldi caduti. E fatto sta che poi abbiamo visto sempre nello stesso episodio che Luciano si trova di turno alle volanti, sempre con De Pasquale che stanno, si trovano al Torione davanti all'abitazione di Donna Rosalba e a un certo punto riappare la moglie di Mimo Iovine che incontra Donna Rosalba, l'abbraccia e gli dice di essere appunto la moglie di Mimo Iovine. E quindi c'è stata l'unione di queste due donne con Donna Rosalba che sappiamo che il marito si trova in carcere, che è stato arrestato e però all'interno della famiglia quella che comandava era proprio Donna Rosalba. Insomma, possiamo dire che la storia di Mimo Iovine è stata una delle storie che ci ha appassionato di più, quella appunto riguardante Luciano Russo infiltrato e quando Luciano aveva visto per strada proprio la moglie di Iovine c'è stato questo flashback, ci hanno fatto rivedere alcune scene proprio di Luciano di quando lui era infiltrato, lui che colpisce un commerciante perché non voleva pagare il pizzo, perché aveva chiesto tempo, Luciano che viene medicato proprio dalla moglie di Iovine, viene medicato alla mano, insomma ci hanno fatto un po' ripercorrere in breve una delle storie forse più belle della squadra, appunto quelle di Luciano Russo infiltrato. Io voglio chiederti innanzitutto se ti ricordi di questa scena in particolare, cioè dell'incontro, del faccia a faccia che c'è stato proprio tra Luciano Russo e la moglie di Mimo Iovine e che cosa pensi di come lei ha reagito alla vista di Luciano Barralino. Luciano che ricordo che in una puntata aveva detto anche ad Angelica Rocco che si era talmente immedesimato in quella parte che appunto a lui sembrava veramente di vivere la vita tra i camorristi che quasi invidiava quella vita, invidiava Mimo Iovine, la famiglia, i soldi e quindi insomma anche questa frase è stata una frase molto forte che Luciano aveva detto ad Angelica Rocco. E possiamo dire che questa missione di Luciano gli ha comunque fatto bene perché da quel momento lui ha cominciato a cambiare, a migliorarsi notevolmente e quindi da quel momento lì c'è stata una vera e propria evoluzione di questo personaggio che se pensiamo a come l'abbiamo conosciuto è molto diverso a come poi l'abbiamo ritrovato qualche anno dopo e quindi insomma l'ammissione di infiltrato ha veramente cambiato notevolmente Luciano Russo ma come uomo, anche come polizzato ma soprattutto come uomo dal punto di vista umano. Ti raccomando scrivi nei commenti le tue opinioni su tutto quello di cui ho parlato in questo video ti invito anche ad iscriverti al canale YouTube Levo essere la vera squadra perché solo così potrai rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita sulla squadra e posso dirti che ce ne saranno veramente tanti quindi ti raccomando iscriviti, commenta quello che più ti interessa inoltre abbonati anche al canale perché solo così potrai vedere dei video riservati solo agli abbonati e tra i tanti video a disposizione potrai trovarne tanti anche che riguardano proprio la squadra e a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto Ciao!